E a proposito di sociale c'è un argomento che purtroppo ultimamente è sempre molto attuale, sto parlando della violenza di genere, è un tema che ci sta molto a cuore perché purtroppo appunto continua ad essere molto attuale, sembra non esserci una vera e propria soluzione ancora ma tutti insieme iniziando a parlarne per esempio qui su un grande palco possiamo fare la differenza anche perché il futuro che noi vogliamo è un futuro senza più violenza di genere e quindi sono molto contento di chiamare adesso qua sul palco una autrice, un'attivista, una content creator che ogni giorno sui social, sulle sue piattaforme si batte appunto per la prevenzione alla violenza di genere, per il femminismo e insomma per il tema del consenso e un sacco di altri temi sociali veramente molto molto importanti Quindi ci tengo a fare un caloroso benvenuto sul palco del WMF 2024 a Carlotta Vagnoli Buonasera, buonasera Bologna, buonasera We Make Future Io sono qua per parlare di quello di cui parlo sempre, la violenza maschile contro le donne che non è un tema da orario aperitivo ma dovrebbe essere un tema di cui parliamo sempre di più anche negli aperitivi, anche durante i nostri incontri diurni con gli amici Io faccio lezioni nelle scuole come volontaria dal 2017 per insegnare a studenti e studentesse a riconoscere e rifiutare la violenza di genere e soprattutto insegno a studenti e studentesse a riconoscere gli stereotipi di genere Cosa sono però gli stereotipi di genere? Si parla tantissimo quando si parla di violenza maschile contro le donne di stereotipizzazione di genere Ma nessuno poi se lo chiede mai realmente cosa siano queste cose quasi mistiche, quasi impalpabili Gli stereotipi sono una serie di regole non scritte che noi ci portiamo dietro da più di duemila anni Gli stereotipi sarebbero delle regole che ci permettevano al tempo di semplificare il reale, la vita che noi ci troviamo davanti tutti i giorni Gli stereotipi relativi al genere sono una serie di regole che dovrebbero indicarci se quella persona che noi abbiamo davanti faccia parte del genere maschile o del genere femminile Gli stereotipi possono essere su tantissimi aspetti che riguardano la vita di una persona L'aspetto fisico, il modo che ha di parlare, il modo che ha di vivere la socialità una determinata persona Sono insomma tutta una serie di codici che dovevano sì, come ho detto prima, semplificarci un po' la fruizione del mondo Ma con il passare del tempo sono diventati completamente anacronistici Ovvero fuori dal tempo Perché? Perché se intanto la nostra società evolveva, i nostri ruoli all'interno della società cambiavano Le donne non erano più gli angeli del focolare, le donne entravano nel mondo del lavoro Si rendevano indipendenti, non c'erano più stigma sulla sua vita sessuale O quantomeno ce ne erano sempre di meno Dall'altra parte, gli stereotipi ci volevano riportare a un tempo che non esiste più Non esiste più da tantissimi anni E quindi qua si crea il cortocircuito Perché noi abbiamo una serie di regole che ci codificano il reale Ma non il reale che noi viviamo, non quello attuale Gli stereotipi sul genere femminile sono tantissimi Sono tantissimi Ma i più importanti riguardano la vita sociale di una donna Una donna per essere considerata una brava donna Concetto molto caro a una società completamente reazionaria Che guarda al passato più che a guardare al futuro Hanno a che fare con la sua socialità Le donne non dovrebbero essere rumorose Non dovrebbero essere così tanto indipendenti Non dovrebbero avere quel bisogno di far parte attiva della società Del mondo del lavoro Le donne si pensa che siano emotive Che siano fragili, remissive Che siano complicate Che i loro no E questo è molto importante tra gli stereotipi di genere Per capire la violenza che poi nasce I loro no in realtà vogliono dire sì Perché le donne sono mutevoli E non c'è niente di più falso Gli stereotipi invece legati al genere maschile Che sono violentissimi Hanno a che fare con l'emotività degli uomini Gli uomini non dovrebbero mai chiedere aiuto Gli uomini non devono accettare un no Gli uomini non devono piangere mai Altrimenti sembreranno delle femminucce Gli uomini sono considerati valevoli In base al possesso che hanno sulle cose E tra le cose purtroppo ci sono anche le donne Perché il più grande stereotipo che non ho citato prima Sul genere femminile È che le donne siano oggetti Quindi che cosa succede? Quando nasce la violenza di genere? Nasce quando una donna vuole uscire Da questa gabbia stereotipata rispetto alla sua figura E un uomo non è in grado culturalmente Di accettare un no in risposta Quindi la prepotenza che nasce da questo rifiuto Fa sì che si sviluppino tutte quelle manifestazioni di violenza Che noi leggiamo sui quotidiani ogni giorno Perché queste manifestazioni accadono ogni giorno Anzi alcune di queste aumentano negli anni Come lo stalking, la condivisione non consensuale di materiale intimo La violenza sessuale Le chiamate al 15-22 Nel primo anno post-pandemico Sono aumentate del 113% Quindi quando parliamo di violenza di genere Noi parliamo di un dato e di un fattore attuale Spesso pensiamo che possa essere qualcosa relativo Alla vita delle nostre nonne O delle nostre bisnonne In realtà la violenza maschile contro le donne È un tema contemporaneo E che dovremmo risolvere Esattamente nei luoghi che trattano il contemporaneo Questi luoghi quali sono? Sono i luoghi come questo Abbiamo una grande opportunità oggi di poter parlare di un fattore che affligge sia uomini che donne Sono i giornali, sono i telegiornali Sono i luoghi in cui si fa politica Le stanze, le famose stanze del potere Per rivoluzionare il sistema di stereotipi Infatti dovremmo avere un approccio globale alla materia Perché ad oggi quando si parla di violenza sulle donne Si pensa che siano le donne ancora a doversi adoperare Per fermare o bloccare l'ipotetica violenza degli uomini nei loro confronti Quindi fin quando siamo bambine ci insegnano e ci viene insegnato Che noi dovremmo camminare alla luce nella strada Dove ci sono le luci dei lampioni Tenere delle chiavi nel pugno Avere uno spray al peperoncino in borsa Non mettere vestiti troppo scollati o troppo corti Perché potremmo attirare delle attenzioni non volute Si dice che gli stupratori preferiscano le donne con la coda di cavallo Quindi ti consigliano le altre compagne, sorelle, mamme, nonne Di non usare la coda di cavallo se sei fuori da sola La realtà è che niente di tutto questo serve Se dall'altra parte non c'è uno sforzo culturale Nel voler cambiare questa cultura Quindi di base la violenza maschile contro le donne È un problema degli uomini In una società sana In una società che finalmente arriva a capire L'urgenza di una risoluzione di questo tipo Noi avremmo appelli politici dai telegiornali In prima serata Vedremo uomini, politici uomini Che si impegnano a voler decostruire Una società patriarcale Che porta a una sofferenza sempre maggiore per le nuove generazioni Avremmo dei centri di aiuto A uomini potenzialmente maltrattanti Avremmo lezioni di educazione sessuale e affettiva nelle scuole Fin dalle primarie Fin da quando bambini e bambine sono piccolissimi Eppure tutto questo non avviene Tutto questo non avviene Perché non è ancora considerato un tema emergenziale Non so quante donne ancora dovranno morire Se quelle 130 l'anno che muoiono per mano maschile in un femminicidio Non siano abbastanza Se le violenze sessuali e le donne che si rivolgono alle case rifugio Non siano abbastanza importanti per la nostra politica Per la nostra società civile Non so che cosa serva ancora per farci rendere conto Che forse davvero avremmo bisogno di incontri collettivi Di discussioni pubbliche E anche nel nostro privato Su quello che ci porta a essere persone incapaci di contrastare questo fenomeno Sa solo che quando io vado nelle scuole Vedo molta reticenza Specialmente negli ultimi anni Da parte delle presidenze Dei genitori E di anche qualche insegnante Perché si pensa che parlare di stereotipi Che parlare di violenza Ai nostri bambini Sia un trauma Perché certe cose i bambini non si devono raccontare Ma quei bambini lì sono gli stessi Che già a due anni Sanno capire la differenza Tra cosa è maschile e cosa è femminile Sanno che possono essere prepotenti con le bambine Per qualcosa che loro hanno appreso In modo completamente autodidatta Senza neanche sapere bene il come Quindi quello che io Alla fine di questo mio Piccolo discorso introduttivo Che voglio trasmettervi È l'urgenza L'urgenza che vorrei Avesse tutte e tutti qua dentro Di tornare a casa Di parlare con le persone che avete vicino Con i vostri amici Con i vostri rappresentanti politici Con i professori delle scuole Dove vanno i vostri bambini e le vostre bambine Con le presidenze delle scuole Dove sono iscritte e iscritti E chiedere loro di iniziare a parlarne di più Perché la scuola è l'unica risposta efficace Che poi ad oggi possiamo avere Su un fenomeno del genere Vorrei che nelle situazioni Di collegialità maschile Tra uomini Nelle vostre chat Quando andate a fare sport Quando siete insieme al bar Iniziasse a dialogare Su quelli che sono gli atteggiamenti Sui corpi femminili Che magari vedete passare Vorrei che prendeste parola Quando un vostro amico Dice qualcosa di sessista Nei confronti di una donna Vorrei che chiedeste alla politica Tutte e tutti quanti Di iniziare a fare qualcosa Per salvare le nuove generazioni Da questa condanna Che sono gli stereotipi di genere Perché la cosa che dobbiamo ricordarci Tutte e tutti quanti È che se il problema è culturale Ed è così universale Oserei dire pandemico L'unica risposta efficace Oltre ovviamente A la nostra propria voce Nella nostra cerchia di amici È necessariamente politica Ma la politica Purtroppo Su questo tema Non ha mai fatto niente E non ha mai fatto abbastanza Viviamo in un paese Ancora democratico Quindi Per salvarci Per salvarci Dobbiamo iniziare A interessarci Dei temi Che anche magari Non toccano La nostra stessa bolla Questo è un tema Che mi sta molto a cuore Vorrei che ne parlaste Anche al di fuori Di quelle due giornate In cui di solito Si parla dell'argomento Che sono l'otto di marzo Il 25 novembre Che è la giornata internazionale Per l'eliminazione Della violenza Maschile contro le donne Perché In questa sala Ci sono Probabilmente Moltissime donne Che hanno ricevuto Una molestia Un abuso Una violenza Di qualche tipo Però sono convinta Che nessuno di voi Conosca Uno stupratore Quindi partiamo da questo Meno umertà E più cultura Facciamo sentire La nostra voce Chiediamo alla politica Di fare davvero Qualcosa di importante E impattante In questo senso Perché per fare il futuro Servono le nostre voci E non lasciate Solo le donne Che cercano di uscire Da questo circuito Di violenza Grazie Grazie